Un nome, un nome nato Bargellina, perché è costruito con un pezzo di legno che nell'Ottocento mandavano giù le chiate nel Mississippi e in Orleans lo smontavano e mettevano sui navi per mandare i merci e questo legno delle chiate lo costruivano nella casa e mia casa è costruito con queste chiate e come facevo un buco per fare una finestrina tra la cucina e il salotto ho fatto fare la chitarra, quindi questo legno è stato nel Mississippi nell'Ottocento è stata una casa di New Orleans per più di cent'anni, in cucina poi, quindi c'è un po' di fumo in cucina adesso che ha detto questo, non aspettare troppo devo ancora imparare a suonare la canzone parla della Katrina, un grande uregano che praticamente appena distrutto la nostra città la città è un po' di cent'anni 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 è un po' di cent'anni